Ciao a tutti, nelle ultime ore stiamo leggendo sui giornali notizie preoccupanti sul fatto che il Premier Draghi avrebbe addirittura chiesto a Beppe Grillo di far fuori Giuseppe Conte. Ma ci rendiamo conto? Se questo fosse vero sarebbe un fatto di una gravità inaudita, cioè un Premier tecnico che non può assolutamente attaccare un partito politico del suo leader. Siamo stati la forza di maggioranza relativa nel governo Draghi, abbiamo sempre sostenuto il governo con lealtà pur con scelte dolorose e difficili. Oggi sarebbe veramente un'ingerenza inaccettabile ma soprattutto pericolosa per la democrazia e per il nostro Paese. Le parole del Presidente Conte su questo non lasciano spazio a dubbi. Ascoltate. Io lo trovo sinceramente grave, grave che un Premier tecnico che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per formare un governo di unità nazionale si intrometta nella vita di forze politiche, di forze politiche che lo sostengono peraltro. E vorrei ricordare che noi sin qui abbiamo sempre e continuiamo a sostenere il governo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, alcuni passaggi che ci procurano sofferenza. Sono rimasto sinceramente sconcertato. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente Conte. Il movimento viene attaccato quotidianamente. Siamo scomodi perché le nostre posizioni probabilmente su molte questioni politiche importanti non rientrano nel pensiero dominante. Ma questo è davvero troppo. Non lo possiamo più accettare. Qui sono in gioco i valori della democrazia. Le ultime iniziative, la costituzione di un nuovo gruppo, le altre cose simili che sono successe in questo periodo rispondono a logiche e manovre di palazzo. Ha ragione il Presidente Conte. Siamo qui non per le poltrone, non per occupare uno spazio di potere, ma per difendere i bisogni, gli interessi degli italiani, in particolare di quelli che non hanno voce, di quelli che non contano tradizionalmente per le forze politiche. Questa forza non ce la può togliere nessuno. Il Presidente ha ragione. Per ora pretendiamo chiarezza. Draghi spieghi al Paese, agli italiani, le sue reali intenzioni, le pressioni che ha esercitato, sta esercitando ed il suo disegno politico. Non lo possiamo più accettare. Siamo sotto attacco. Il Movimento 5 Stelle è sotto attacco. Il Presidente Conte è sotto attacco. E abbiamo bisogno di tutti voi per difenderci e per diffondere la verità. Diffondiamo questo video e non molliamo. Forza!